Succio con cano però Ho lasciato un like già da studio In questo nuovo video come vedete siamo qui nella social 30.000 Come vedete i capelli rossa io sono un po' testa di cazzo Siamo qui con delle persone abbastanza assai misteriosi perchè non ci vogliamo far vedere Noi siamo più con come ti vuoi per chiamare Lili Veronia Allora Pippo O poi Giacomo E il Gianfilippo Ok allora dunque siamo in compilità di queste persone abbastanza particolari perchè in quello che vogliamo fare L'appunto speciale che consiste all'inizio però consiste in mangiarsi tre pizze però del pizzo ho detto no cazzo io muoio quindi non posso farlo Quindi ho detto va a qualcuno allora andiamo di peperoncino per vedere questo molto piccante perchè si lo giuro E' beggio Fuccia da provare il peperoncino No non si chiama fuccio come si chiama eh Gabut Comincia Pippo Sono Pippo Ehi Sono Pippo Ok dunque allora in te Allora Pippo Ehm C'è metà boccetta Metà Tutta 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 Play per i riscritti Cioè allora sta diventato un prato fiorito Morirò io Allora ma se c'è Fuggio per un po' che gli ho messo io stavo morendo Tutto io ho messo io Si vede si vede si vede è polvere Quindi signori lasciate un like già da subito Cerchiamo di fare 3.000 like Non so che ci fossero arrivati Stai rubando il frigorifero Nooo Per tutti i rega sono gianu No ma c'è una puzza di biberoncino Tanto qua ragazzi ancora hanno finito di rinunciare C'è da dire che la pizza era anche a diavola quindi c'è anche il salone piccante C'è l'olio piccante Lori ti fidi di me inizia a prepararti il bicchiere con l'acqua Ma grazie che consigli utili che trai Allora la prima fetta Sto imparazzando Ti ho lasciato un like già da subito perché sto per voi Vabbè ma magari non picca Andiamo al dedo lì no? Cioè vado al commento ce n'è Spero non me lo devo preparare No 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 Sto venuto a poco Chi è? Chi ne vuole un pezzi? Chi vuole una patatina? Ma deve fare un po' di polvere Per lì sai Che è doveva andare Chi è vero? 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 Vuoi? Ma diamante nooo nooo capi nooo 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 gregge io non la mangerei ne ha appena fatto dopo un bezzo nel culo al caso mai te lo faccio io a risco mi fai assaggiare la patatina prendi questa come daniel ma come fai a mangiarti una pizzeria in non morire ma come fai a bere tutta quella io un po me ne do mangiare un po la patatina si mangiare il cesto del brunello non posso fare una cosa? vieni come pizzeria la faccio preparazione oddio l'ho venuto lasciate il like subito vedete come si fanno i like è facilissimo 3,2,1 1 che uomo oh no è pazzesco con una patatina molto pochissimo adesso sto morendo ancora mmm oh 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 madonna faccio il primo bicchiere ah è diventato piccato i capelli sono viola logicamente ora diventano rossi i capelli diventa ciali è morto non ciali ahahah è preciso ruolo ma poi che cosa cosa idrobomba è super efficace nooo è salentato ma ti vuoi di silenzio non voglio non voglio tutti i ragazzi sono a giollo mi sento mi sento un bisellone che stai facendo Lorenzo vaffa cool ah tu che cazzo ma non mi devi puntare ma ancora tu spudi guarda tanto piccante vabbè fuori ma ancora vabbè buona la polvere buona la polvere guarda che bella le finestre non la piedisco la pizza ma ne mancava pochissima veramente non ce la faccio è troppo ah questa sera ahahah ahahah che cadrò spero che questo video vi sia piaciuto grazie per i 30.000 iscritti sono veramente un traguardo stupendo spero di arrivare un giorno con altri 50-100.000 oh mio dio troppo bello vi ricordo come sempre in descrizione instagram, telegram e facebook mi raccomando passate da instagram perchè sono un fashion blogger fighissimo non è vero quindi grazie ancora per aver guardato il video lasciate un like e un commento da Giorgio è tutto big up da regista no dai me l'ho scorreggiato